Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore siamo la tua famiglia, la tua famiglia particolare gloria al tuo nome perché in ogni tempo Signore tu hai avuto i tuoi che in un certo numero particolare. Alleluia questa sera ci hai ancora onorati facendoci parte di questo numero Signore anche se piccolo, alleluia come quantità gloria al tuo nome ma molto grande al tuo cuore. Quindi o Signore da questo luogo che ti sei scelto e dal Signore Tempio del nostro corpo, della nostra vita, alleluia, sale a te o Signore, salga a te nel nome di Gesù e insieme a Gesù il sacrificio della lode. Ora è sempre in eterno, alleluia, amen, 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 alleluia. Alleluia, amen, oh Gesù, buon Gesù, alleluia. Io sono, io ti cerco e ti aspetto, allora è importante cercare Dio e aspettarlo, saperlo aspettare. Perché fratelli, chi non sa né cercare né aspettare Dio, sgaccia in te guai, alleluia, amen, gloria a Dio. Perché guardate, mi ha fatto venire alla mente il Signore una cosa importante, importante, importantissima nel sapere aspettare. Se vi ricordate, il re Saul era stato scelto da Dio pure, sì, dice, il popolo lo ha appressato, va bene, perché voleva un re, e allora il Signore gli provvide, diciamo, questa persona che era molto robusta, era imponente proprio, direi adatta per essere un re d'Israele, come lo volevano il popolo, no? Come lo voleva il popolo. Allora, il profeta Samuele, cosa gli aveva detto? Di aspettare l'Eterno, alleluia, amen, per lui continuare a fare la volontà di Dio. Invece, Saulo non ha saputo aspettare, intanto, prima, guardate quante disubbidienze, ecco chi è disubbidiente al Signore. Dura poco. Amen? E fa danno. Alleluia. Quindi, pensate voi che lui, per non aver saputo aspettare il profeta Samuele che arrivasse e che poi, come il Signore gli aveva detto per mezzo del profeta Samuele, ha offerto lui il sacrificio e si è attirato su di lui la maledizione di Dio. Alleluia. Vedete che il Signore non arriva mai tardi o troppo tardi. Il Signore arriva a tempo giusto. Dice, guardate, ma si è glorificato il Dio che lui mi dà quello che devo dire. E io lo dico. Quando il Signore ha messo nel mio cuore di fare la radio e che effettivamente, come tutti voi sanno, io non ho fatto la radio per ambizione, per far avvitare che si sapeva fare, nel modo più assoluto ve lo dico in verità. Sapete perché cosa ho fatto la radio, come ho detto, l'ho fatto esclusivamente col pensiero che tante persone, tanti credenti malati che non si possono regare nelle proprie chiese, potessero ascoltare, diciamo, la parola di Dio e di cantici, scusate, attraverso la radio. Solo per cui questo è stato il motivo iniziale. E che poi, questo è sempre un motivo. E allora, ricordo che cominciai a fare prove, sapete perché? Quanti anni? 36, a febbraio. 36, quando regno l'era. All'ufficio anagrafo. E allora, 36 anni fa, e allora, 36 anni fa, allora, diciamo, io incominciai a fare queste prove, perché giustamente non sapevo come si faceva una radio, però io, siccome me ne intendevo un poco di radiotecnica, allora cercavi di fare, sapete, ho fatto un piccolo trasmettitore, allora l'ho fatto io stesso, con le mie stesse mani. però, giustamente, sapevo che quel cosino lì non poteva funzionare, era solo per fare le prove. Allora, che poi mi sono rivolto ai tecnici veramente che hanno costruito l'orario del trasmettitore. Allora, mi ricordo, per, ecco, per non fare le cose di testa mia, ho incaricato una sorella della chiesa, che frequentavo, affinché pregasse, per qualcosa che io chiedevo al Signore, però senza dirle a questa sorella il motivo, perché, fratelli, se uno vuole che una rivelazione arriva, e una rivelazione autentica, non c'è da dire, ma anche vosso budedda che ducche, perché altrimenti arriva una rivelazione, da destra, di piedi, da destra, da sinistra, da sutta, pure i morti se lo ducce. Quindi, le rivelazioni, per essere autentiche, non le deve sapere nessuno, deve essere una cosa vostra, intima, personale. E' così, diciamo, io, perché ho detto, Signore, se Tu vuoi che io, se è un desiderio mio, allora io lo elimino. Perché, sapete, ho sempre avuto questa paura io, Signore, ma sei Tu o sono io? E questo timore bisogna averlo, fratelli. Non bisogna essere mai, cioè, un Signore mi disse, un Signore mi rivelao, un Signore mi oddenao, e allora, ho fatto pregare questa sorella, senza che sapesse niente, e lei, pregando, dice, mi ha mandato a dire, con un fratello, che era suo genero, ora, se non è stato, non è un rappo, dice. Vabbè, ma tante sorelle hanno il genero, no? E allora, però, allora mi ha mandato a dire, con un suo genero, dice, di Annino, e di attendere ancora un poco. Gloria a Dio, dice, allora non era il desiderio del mio cuore. Amen? Allora è da parte Tua, Signore, perché se Tu mi dici che non è ancora il tempo, allora, Signore, è da parte Tua. Amen? e in quest'arco di tempo, sempre pregavo, dicevo, Signore, quando Tu vuoi, e intanto mi occupavo sempre del mio lavoro. A un certo punto, mentre stavo lavorando, come sempre mi succede, non è che le cose mi accadono in preghiera, tante cose, fratello, non mi accadono in preghiera, sapete perché? perché io non, perché a me non nasca il dubbio che possa essere autosuggestione, suggestione, a me, no, suggestione, suggestione, insomma, ma non mi ha capito, no? E allora, e quindi, perché in preghiera, sapete, se uno che pensieri che va da, se uno perché dice, Signore, stai pregando, sai, un piatto di pasta a fondo, Signore, ti prego, allora vada, a tale posto, la vengono, e chiede da buona, ma già io, il nostro ci rivedo, che ho parlato io, un Signore dice, accadda la tante cose, perché non è buona, amè, sono riusciti a far capire, quindi uno non deve mai, ecco, pregarsi, allora, mentre io stavo lavorando, ecco la preghiera, Signore, quando tu vuoi, mentre stavo lavorando, ecco, un pensiero alla mente, come una voce, che mi disse, ma aspetta, ma quant'è questo tempo, che devi aspettare, che stai aspettando, perché già erano trascorsi, non so, forse ho accottumisi, qualche cosa, perché io dissi, Signore, se tu dici, non vuoi, io non ne faccio, e così, ecco, vedete, quando, fratelli, uno, in buona fede, chiede al Signore, e aspetta, a me, e lui stesso, se è tardo, se già siamo un retardo, io non avventi, dici, che fai, lo sbigliate, infatti, così improvvisamente, mentre io lavoravo, per i fatti miei, ma quanto tempo devo aspettare, oh, Signore, è vero, ma quanto devo aspettare, e che devo fare, allora, mi rivolgo nuovamente, a quest'altra sorella, a questa sorella, se non io, sempre per mezzo, del suo genere, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono così, di pregare, sì, allora, lui va, la sorella prega, in preghiera, presentò la cosa, dice, Diannino, che è ancora in tempo, figlio, la nostra canne, che canne, magari, questa canne di macello, no, mi senti, io ho aspettato, tanto tempo, ora, io, 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 ancora in tempo, come, ancora in tempo, che fare, allora, ora, no, ancora in tempo, fratello, gloria a Dio, effettivamente, effettivamente, già, eh, il tempo, stava, oltrepassando, quello stabilito da Dio, e il Signore, mi ha svegliato, dici, che fai, Domme, aspetta veramente, allora, subito, mi sono dato da fare, chiedendo, ecco, allora, a quel punto, signore, che fare, aspetta, entrai un po' in confusione, in agitazione, perché confusione, confusione, agitazione, confusione, ma c'è che fare, come rivolgere, perché, non è che potevo fare la radio, con quel trasmettitorino, che avevo fatto io, non si poteva, che lui faceva ridere, non si poteva, no, ci voleva un trasmettitore, veramente professionale, alleluia, allora, dico, faccio, signore, gloria al tuo nome, io non conosco nessuno, signore, mandami dei tecnici, che, 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 quelle che fanno queste cose, perché io non conosco, non so neanche dove si trovano, queste gente, chi sono, chi non sono, eh, fratello, domani mattina, mi arrivano, due persone, dice, permesso, dici, buongiorno, buongiorno, lei è il signor De Luca, sì, dici, lei ha la piega a tubi, ecco ciò, dice, perché abbiamo girato tutti i messini, e lui non c'era la gira a tubi, e noi dicono che lei, perché fa lei, io facevo i mobili metallici, farelli, oh, poi sorgero tutti, presse i piegatici, tutte cose, ma prima a Messina, i Ferrari avevano quattro cose, posso dire, io, tantissimi anni fa, era una piccola, diciamo, fabbrichetta, però attrezzatissima, e infatti loro gli hanno detto, guardi, l'unico qui a Messina, che ha la piega a tubi, è De Luca, che dice, ha l'officina, la sotto, così, così, e quelli quindi sono venuti, però, sì, perché? dice, perché guarda, noi siamo dei tecnici, ci sono come, io ti sei ricco come uniglio, no? ci sono come, siamo dei tecnici, dice, che facciamo trasmettetore, e ci servono delle antenne, ma, grazie signore, che mi mandaste fino a casa, come avevo chiesto io, signore, signore, io non so, io non so, sa музыYa, grazie a tutti. ma già lui